Grazie, buonasera a tutti, grazie della presentazione. Io sono molto felice e onorato di essere qui all'Istituto per parlare di Giappone e complimento per la meravigliosa mostra che in questa occasione è stata realizzata in collaborazione con Lugano, la mostra era stata presentata anche in Lugano, penso che molti di voi l'abbiano già visitata ed è una testimonianza di grande pregio dell'arte e della fotografia che è stata sviluppata in Giappone sin dai primi anni della modernità. Il tema che mi è stato assegnato è il tema del paesaggio e la natura nella letteratura e nella fotografia del Giappone tra tradizione e modernità. è un tema molto complesso, molto articolato e difficile perché è amplissimo, è veramente amplissimo. Qui vediamo una cartina del Giappone antica della nostra tradizione e una cartina invece del Giappone riprodotta su un paravento che rappresenta il territorio giapponese che ha visto lo sviluppo della civiltà giapponese dall'antichità all'epoca moderna. Nell'epoca moderna poi ci sarà anche lo sviluppo della parte nord, dell'Hokkaido del Giappone. E questo è il territorio del Giappone come noi vediamo oggi, il diviso nelle diverse prefetture, il nucleo fondamentale dello sviluppo della civiltà è sicuramente l'area centrale di questa parte del Giappone ma ci sarà anche uno sviluppo verso la parte sud e poi invece nell'epoca moderna, l'epoca premoderna e moderna lo spostamento verso l'asse di Tokyo e quindi Edo prima e poi Tokyo. Il territorio su cui si sviluppa la civiltà e quindi anche la considerazione della natura e del paesaggio è questo. In giapponese in realtà un termine che definisca la natura viene introdotto, il termine natura in senso generale viene introdotto in epoca moderna e viene utilizzato un termine già esistente, Shizen che è un termine che indica ciò che avviene spontaneamente quindi inizialmente nell'antichità Shizen indicava soprattutto in forma verbiale ciò che avviene di per sé spontaneamente oppure il termine Tennen, quello che è naturale perché lo è per nascita spontaneo appunto per nascita ma nell'epoca antica non si utilizzava un termine che indicasse la natura se non appunto per esempio termini come Amezzucci o Caccio o Fughezzo Shizen viene utilizzato in epoca moderna per tradurre proprio il termine natura quindi il naturalismo sarà chiamato Shizen Shugi la natura in contraposizione alla cultura sarà chiamata Shizen eccetera e però sarà coniato, riconiato, rifondato in epoca moderna nel Giappone antico esisteva appunto Amezzucci quindi il cielo e la terra per indicare in qualche modo l'universo la dimensione dove si sviluppa la vita dell'uomo e poi in epoca medievale appaiono anche il termine Caccio o Fughezzo il termine Caccio o Fughezzo è un termine che è stato coniato non si sa da chi, che appare nei trattati viene utilizzato da Zeami nei suoi trattati ed è un termine che indica le bellezze della natura Caccio nei fiori, ciò sono gli uccelli quindi i fiori e la flora, gli uccelli ossia la fauna Fughezzo è il vento, quindi i fenomeni atmosferici Fughezzo è la luna e quindi diciamo quelle manifestazioni del creato celeste la dimensione celeste che in Giappone non è molto sviluppata ma sicuramente la luna ha una grande importanza invece per quanto riguarda il paesaggio il termine che sarà coniato in epoca moderna è Fuke e poi Fukega per indicare la pittura di paesaggio prima veniva utilizzato il termine Keshki, Kei e nel caso della poesia si utilizzava Kei Kinouta Kei Kinouta sono le poesie di natura descrittiva le poesie che descrivono appunto elementi naturali e che si impermiano principalmente sulla natura e poi però in tutte le poesie giapponesi poi vedremo come si sviluppano nella tradizione lirica è spesso presente un elemento naturale che viene chiamato Fubutsu, Keibutsu eccetera in effetti la civiltà giapponese ha appunto quei due perni fondamentali che sono rappresentati dal cuore del Giappone, lo Yamato e un altro elemento fondamentale rappresentato da questi complessi santuari shintoisti che vedono al centro sicuramente del culto anche gli elementi naturali, gli alberi sacri, le divinità le divinità, le 80.000 divinità che popolano il territorio sono le 80.000 divinità che costituiscono oggetto di culto e che animano tutta la natura e tutto l'universo in cui l'uomo si muove qui vediamo il santuario di Izumo e qui vediamo il santuario è il luogo dove viene conservato un ricettacolo dove la divinità può essere accolta ma è anche il luogo che tiene lontano i demoni quindi le divinità hanno la funzione di tenere lontano di proteggere dalle divinità dai demoni, dai spiriti maligni da altre presenze negative e soprattutto hanno la funzione appunto di animare tutto il territorio in cui l'uomo si colloca qui vediamo un santuario sempre shintoista a Nara il santuario di Kaspa anche qui si tratta di un santuario in cui c'è il ricettacolo sempre che accoglie la divinità e che viene venerata all'interno di questo padiglione ma all'intorno c'è sempre una dimensione naturale la dimensione sacra degli alberi, della foresta nel caso di Kaspa c'è una foresta che circonda il santuario ecco la vediamo il quadro e all'interno di questa foresta poi si muovono degli animali sacri come i cervi eccetera in poesia la lirica le emozioni, i sentimenti vengono espressi nelle prime antiche antologie nelle prime canzoni eccetera in due modi fondamentali che verranno codificati poi nella più antica antologia conservate fino ad oggi due modi diversi per esprimere i sentimenti che quindi sono molto legati poi al rapporto con la natura il primo è Seijutsu Shincho cioè la manifestazione diretta dei sentimenti le poesie in cui il poeta la voce poetante esprime le proprie emozioni direttamente i sentimenti d'amore direttamente così come le prova esprimendo quindi sentimenti stati d'animo emozioni movimenti dell'animo Kibutsu Shinchi invece un'altra varietà di poesie in cui invece la voce poetante il poeta si esprime utilizzando, appoggiandosi alle cose cioè ricorrendo a metafore ricorrendo a immagini naturali i sentimenti, le emozioni vengono espresse attraverso le immagini naturali questa è una delle dimensioni molto importanti che all'interno della lirica giapponese appaiono sin appunto dalle più antiche antologie e che poi si svilupperanno nella tradizione e sarà questa soprattutto questo versante, questa corrente che avrà grande importanza il ricorrere a esprimere i propri pensieri i propri sentimenti e le proprie emozioni attraverso delle immagini delle immagini naturali appoggiandosi alle cose le cose che cosa sono? sono le cose animate e inanimate rocce, fiori, alberi, animali che ci circondano naturalmente anche l'abbiamo visto a cacio e a fughezzo animali, flora e fauna ma anche i fenomeni naturali la neve, la pioggia, il vento, eccetera e le dimensioni celesti la prima, la più antica antologia di poemi, di poesie raccolte tramandata fino ad oggi è il Mayoshu e noi vediamo già in questa ho scelto alcune perché sono più di 40.000 versi 4.000 versi per cui ci sono moltissime poesie sui monti d'autunno tra rigoglio di foglie rosse alla ricerca dell'amata smarrita io vago senza conoscerne i sentieri qui vengono espressi direttamente i sentimenti del poeta che ha perso l'amata, la moglie e la cerca vagando tra i monti e ricorre all'immagine dei monti d'autunno e delle foglie rosse degli aceri e altri esempi di poesie che poi si legano al tema del paesaggio e della natura sono sicuramente le poesie di viaggio chissà dove mai avrà Prodo volgendo a remi laggiù oltre il promontorio di Are la barca senza murata qui in realtà il viaggiatore il poeta non è necessariamente un viaggiatore ma segue col pensiero con lo sguardo una barca un'imbarcazione che si volge a remi verso un promontorio i luoghi richiamare i luoghi è un modo per evocare magicamente quello che è il potere magico forte che è presente in quelle parole in quei luoghi in quei paesaggi quindi avrà una grande importanza anche i toponimi avranno una grande importanza i toponimi che permettono al poeta in qualche modo attraverso la parola poetica di controllarne l'energia che si sprigiona attraverso di questo nella poesia e nelle liriche di queste antologie si eredita quindi la sensazione dell'anima del palpito che agita tutta la natura che circonda le persone a questo si lega un altro sentimento invece di inquietudine che coglie chiunque si immerga nella natura che è il sentimento dell'allontanamento dagli posti sicuri dei posti conosciuti il viaggio crea anche l'inquietudine del timore di quello che si potrebbe incontrare degli incidenti delle energie negative che potrebbero avvolgere le persone che partono che si allontanano che si dirigono verso un'altra direzione un altro esempio già troviamo quindi in questa antologia la presenza del lago di uomini ancora un toponimo un lago quindi elemento del paesaggio il piviere la figura del piviere poi nelle antologie successive verrà a definirsi in maniera più netta e attraverso queste immagini si evoca lo sfiorire nel ricordo all'interno del cuore di determinati emozioni ancora un'altra poesia Sakurada ancora un luogo viene evocato questo luogo questo luogo si accompagna a determinate emozioni che man mano nella tradizione si codificheranno e a questa immagine del luogo l'immagine delle gru che trasvolano il lamento quindi un'immagine visiva e uditiva la laguna di Ayuchi un altro luogo ancora e poi ancora la presenza della marea il movimento nella poesia nella lirica avanzerà farà un suo percorso avanzerà sempre maggiore importanza anche questo senso del dinamismo dell'energia che appunto palpita all'interno delle cose la baia di Huaca la marea la laguna i cannetti e le gru attraverso tutte queste immagini naturali in realtà il poeta parla delle sue emozioni parla di una stagione parla di sensazioni parla dell'atmosfera parla del clima il genius parla però anche delle sue emozioni personali lungo il cammino questa è sicuramente una poesia di viaggio laggiù distante oltre le nuvole appare la casa dell'amata l'attesa di poter incontrare la persona amata e l'incitamento che si rivolge al destriero al cavaliere altro esempio ancora i fiori di ciliegio tramonti scoscesi di sei giorno in giorno così fiorite ancora più straziante la nostalgia d'amore la sfioritura dei fiori di ciliegio che fioriscono però si sa che man mano tenderanno a svanire e nello stesso tempo questa trasformazione fa percepire lo svaporare anche della nostalgia che diventa sempre più forte la nostalgia dell'amore ancora sui rami morti le l'espedezze questa è un'immagine di fiore che si leggerà all'autunno nella piana di Kudar ancora un luogo l'usignolo che sostava anelando la primavera forse ora canta si immagina sono rami morti è l'autunno però anche l'usignolo che pure aspettava la primavera forse nello stesso luogo sta cantando il tema del viaggio si lega anche a temi non necessariamente di emozioni e sentimenti privati personali sentiti dai poeti di quest'epoca diciamo in qualche modo ingenue nello stesso tempo spontanee nell'espressione di sentimenti ma che tuttavia ricorre a immagini poetiche il tema del viaggio dicevo torna importante anche nelle poesie di esilio per esempio il Sugawara Nomicizana è un famoso poeta che avrà un ruolo avrà una grandissima carriera all'interno della corte imperiale però in seguito a un complotto viene accusato di complottare lui stesso di complottare contro l'imperatore quindi sarà costretto all'esilio dalla capitale Kyoto sarà costretto a dirigersi verso il sud del Giappone nell'isola del Kyushu ad Asaifu l'estremità di questo e lui che sta partendo secondo la leggenda recita questa poesia a me che va scorrendo scorre come l'acqua verso lontano verso le isole dovessi anche divenire detrito all'onda fuggente nell'acqua fammi tu da barriera e trattienimi quindi spera che qualcuno appunto faccia da barriera che lo trattenga in questo suo precipitare verso l'esilio il poeta anche ricordato come in questa raffigurazione pittorica è ricordato per il suo amore dei susini i susini bianco il susino bianco del suo giardino secondo la leggenda l'avrebbe seguito volando fino al kyushu magicamente la pianta di susino seguirà il poeta in esilio e lo accompagnerà nel suo viaggio lui quindi la tradizione trasmette tramanda questa poesia anche questa probabilmente non composta da sugavara nomicizzane ma di fatto poi lui diventerà morirà in esilio e diventerà il protettore dei poeti i protettori degli studi diventerà una divinità e determinerà la morte una serie di sventure sulla capitale di chioto colpendo anche colui che ha determinato la sua rovina questa poesia è dedicata appunto alla pianta di susino se il vento d'oriente soffiando effonde il tuo profumo fiore di susino anche se non c'è più il tuo signore lui si è commiata dalla pianta anche se non ci sarò più io non dimenticare la primavera non dimenticare di fiorire come ogni anno in primavera appunto la leggenda però poi vuole che lui abbia che il fiore e tuttora nei templi dedicati a questo poeta il fiore di susino vedete che c'è una pianta di susino fiorita bianca sempre piantata appunto nei pressi dei santuari dedicati alla figura deificata del poeta queste premesse della poesia che troviamo nelle liriche antiche nelle canzoni antiche nelle più antiche antologie tramandate si riflettono poi nella prima antologia imperiale 905 circa una raccolta di poesie antiche moderne in cui troviamo vengono a codificarsi man mano tutte le caratteristiche che saranno del della poesia di corte si è costituita una corte stabile appunto alla capitale chioto prima nella capitale di nara e poi nella capitale chioto e la poesia è una delle pratiche fondamentali per qualsiasi uomo di corte la poesia nell'antichità parlavo del potere magico della poesia la poesia è la parola con cui si parla con le divinità la poesia viene dedicata alla divinità queste sono le origini della poesia la parola con cui ci si rivolge alle divinità è quella parola in versi poi la parola viene utilizzata anche per comunicare per esprimere le proprie emozioni per esprimere i propri voti auguri alla divinità per chiedere la protezione per le persone care eccetera il valore della poesia è nella tradizione giapponese enorme e rimarrà grandissimo all'interno di tutta la tradizione e all'interno di questo di questa antologia imperiale c'è anche un volume dedicato appunto alle poesie di viaggio le poesie di viaggio che più di ogni altro più delle altre poesie presentano elementi naturali anche se di fatto gli elementi naturali appaiono in tutte le poesie nella prefazione dedicata a questa antologia Kino Tsurayuki che è uno dei curatori dell'antologia imperiale essere scelti nell'antologia imperiale era un grandissimo onore per un poeta era il massimo dell'aspirazione i selezionatori erano dei poeti di provata maestria e nell'introduzione si dice questo la poesia giapponese avendo come seme il cuore umano si realizza in migliaia di foglie di parole le emozioni sono il cuore le foglie di parole sono l'espressione della poesia la gente di questo mondo poiché vive tra molti avvenimenti e azioni esprime che ciò che sta nel cuore affinandolo alle cose che vede o sente quindi si esprime ciò che sta nel cuore affidandosi alle cose che si vedono e si sentono vedete che troviamo quel Kibbutzu cinshi l'esprimere le proprie emozioni affidandosi a immagini naturali si ascolti la voce dell'usignolo che canta tra i fiori o della rana che dimora nell'acqua chi tra tutti gli esseri viventi non compone poesie non solo l'uomo canta le sue emozioni la poesia è la parola dell'uomo è la parola con cui l'uomo comunica quella divinità ma è anche l'emozione così come viene le emozioni vengono espressi dall'usignolo che canta tra i fiori dalla rana che dimora nell'acqua quindi vediamo che il poeta si sente vicino comune in sintonia sullo stesso piano di un qualsiasi altro elemento naturale figura naturale quindi questa così riappare all'interno dei versi questa è una poesia di separazione separandoci io parto verso il monte inaba attraverso questa poesia si augura anche la sicurezza del viaggio eccetera sulla quivetta il pino invecchia il pino è il segno della sempreverde ciò che non muta nel tempo che rimane sempre uguale quindi se udrò che mi attendi da te io tornerò si ricorre alla vetta il monte inaba e il pino per esprimere questa promessa di avvicinarsi e ritornare nell'idistinto chiarore d'alba sulla spaglia di acasci immersa nella bruma matutina una barca oltre un'isola di legua anche qui vediamo l'immagine del poeta che segue con lo sguardo una barca che si dilegua nel paesaggio in lontananza bruna matutina è sicuramente un paesaggio di primavera la baia di acasci è immersa in questa sorta di luce dorata e rosata a quella barca segue e rincorre il mio pensiero un'altra poesia sempre di viaggio in casa le prime lettere diversi richiamano l'immagine dei fiori del giaggiolo l'iride l'iris in casa una cara moglie rimane e le porto affetto il poeta lontano ricorda l'immagine della amata come all'abituale morbida veste dunque ripercorro il cammino ecco si lungi mi ha portato è un'immagine che torna anche appunto quella dei dei giaggioli è legata anche questa alla stagione ma la primavera più avanzata in questa antologia la poesia viene a esprimersi esprimere le trasformazioni in questa antologia più che ancora nella precedente via via in forma graduale il trasformarsi delle emozioni trasformarsi delle emozioni nel cuore dei poeti delle persone che si esprimono nelle poesie le emozioni dell'amore una storia d'amore sin dall'inizio nella sua attesa per giungere all'incontro d'amore per giungere all'attesa del ritorno dell'ammato fino alla fine dell'amore la dimenticanza eccetera lo stesso sul piano della della natura si segue l'evoluzione della natura quindi sono state scelte le liriche in base al procedere del tempo dalle diverse stagioni dalla primavera quando ancora ci sono tracce di neve fino alla primavera avanzata il fiorire dei ciliegi e così via la sequenza segue questo qui abbiamo invece un'immagine di una spiaggia se qualcuno per caso dovesse chiedere di me rispondi che alla baia di Suma grondando lacrime come alga salmastra si ricorre l'immagine delle alghe salmastre che grondano le lacrime per esprimere il dolore della lontananza vivo immerso nella desolazione qui ha un'altra poesia legata al tema dell'esilio anche il poeta Rivara Noyurihira secondo la leggenda sarebbe stato costretto all'esilio immagine dell'autunno che si matura del pieno autunno è quella del fiume Tazzuta e del foglie fiammanti sul fiume Tazzuta foglie fiammanti scompigliando si fluttuano se l'attraverso il drappo di broccato si infrangerà anche qui immagine delle foglie degli aceri o le foglie comunque ingiallite o imporporate danno l'immagine di un broccato anche le metafore verranno codificandosi man mano si ricorrerà a immagini ricorrenti che si riproducono via via e inaudito sin dall'era dei tempi degli dei tumultuosi che il fiume Tazzuta imporpori le acque screziate di vermiglio sembra che il fiume il fiume sia screziato sia come sangue che scorre ed è in realtà appunto sono le foglie che sono cadute nel nel fiume il tema dell'esilio appare e quindi anche la conseguente descrizione di immagini naturali ritorna per esempio anche nelle opere narrative qui vediamo l'esilio di un protagonista di una grande opera del dell'anno 1000 il Genji Monogatari Genji è appunto isolato esiliato costretto a allontanarsi dalla capitale e quindi esprime la sua nostalgia e la la desolazione la natura selvaggia di questa spiaggia in cui è stato esiliato sia nei versi che appunto sia nella narrazione qui lo vediamo che si recca e qui invece è un'immagine che lo raffigura in contemplare il paesaggio delle onde che arrivano fino quasi al cuscino al suo cuscino dove lui riposa qui un'altra immagine della spiaggia avvolta dalle nubie e questo è il tempio in cui è stato concepito secondo la tradizione il Genji Monogatari la scrittrice è una donna e sarebbe appunto avrebbe concepito la composizione di questa opera narrativa che si considera prodigiosa meravigliosa all'interno di questo tempio che è immerso nei monti nei pressi della capitale un'altra opera narrativa adesso stiamo passando dalla poesia alla narrativa un'altra opera narrativa che descrive la natura e quindi il viaggio e tutto quello che si vede i paesaggi che si incontrano lungo il percorso in questo caso attraverso un viaggio in nave e rientro è un diario il diario di Tosa che è scritto da un poeta che però si finge donna e che descrive appunto questo suo percorso la descrizione del paesaggio serve a esprimere nello stesso tempo anche l'avvicinarsi il ritorno verso la capitale e anche il dolore della perdita di una figlia la dolore della perdita della figlia rappresenta il tema dominante di questo suo viaggio di ritorno la natura l'immersione nella natura e nel paesaggio è un tema che viene vissuto dai poeti di corte molto spesso come motivo dominante anche senza compiere viaggi però ci sono anche poeti di corte come Noin che in realtà appunto è monaco e quindi si dedica a una vita di ascesi e di itineranza in mezzo alla natura Noin appunto costituirà un modello alternativo diverso rispetto alla poesia di corte in cui appunto il vagare in mezzo alla natura diventa il motivo di ispirazione delle sue poesie nel villaggio tra i monti al crepuscolo di primavera in visita giungo ed ecco alla campana del vespero volteggiare di fiori l'immagine del suono della campana che fa tremare l'aria e quindi volteggiare i fiori è l'immagine anche di una qualcosa di fuggevole che Noin esprime attraverso queste sue questo è un luogo dove è tuttora la tomba di Noin che viene tuttora ricordato e che costituirà un modello che appunto troveremo in altri poeti della tradizione giapponese il tema del viaggio appare anche in diari femminili abbiamo visto che il Genji Monogatari una delle opere più preziose appunto del grandissimo romanzo composto da una donna oltre a questo ci sono anche vari diari per esempio c'è una parte dedicata al viaggio della protagonista della donna che registra i suoi sentimenti in questo diario anche nel Sarascina Nicchi appare una parte dedicata al trasferimento e al viaggio da una zona a un'altra del paese con tutte le emozioni e i sentimenti che accompagnano questo e l'immersione nella natura nel 1205 viene composta una nuova antologia che riprende il Coquingwakashu l'altra antologia imperiale nel frattempo ce ne erano state altre naturalmente un'altra molto significativa è questa la nuova raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne qui entra in gioco davvero in maniera molto frequente le poesie di paesaggio vera e propria quelle che avevo citato all'inizio le poesie di paesaggio in cui il poeta contempla in lontananza se guardo in lontananza non fiori né foglie d'acero scarlatte e scorgo sulla trapanna arriva il mare crepuscolo d'autunno il richiamo alla stagione presente il crepuscolo d'autunno lo scenario è di grande desolazione si evocano delle immagini bellissime che sono quelle della tradizione le più amate dai poeti i fiori di ciliegio e gli aceri scarlatti ma non ci sono vengono richiamati nella poesia e nello stesso tempo si dice che quelli non ci sono più rimane soltanto una capanna arriva il mare il crepuscolo d'autunno è l'estetica dell'assenza è l'estetica dell'evocazione della risonanza creata dall'immagine di qualcosa che non si presenta davanti agli occhi che il poeta forse vorrebbe trovare ma che non c'è più e nello stesso tempo si fa avanti un'estetica nuova l'estetica della desolazione questo tipo di estetica avrà un nuovo porta un nuovo respiro un nuovo anelito di grande creatività all'interno della tradizione giapponese è un tipo di estetica che si sviluppa quando anche la corte ha perso di fatto il fasto il fulgore che era stato dell'epoca imperiale nel frattempo il potere in Giappone è stato conquistato da altre figure l'aristocrazia militare i poeti continuano a praticare la poesia e la poesia è prerogativa attraverso cui esprimere i propri sentimenti e diventa una poesia di una grande rarefazione e di grande raffinatezza ancora immagini di viaggio fermato il cavallo neppure un'ombra su cui scrollare le mani quindi nessun albero il crepuscolo di neve il guado di sano anche qui i luoghi lo scenario e il sentimento del viaggio all'alba ecco di nuovo una vetta da valicare trascorrono sul cielo bianche nuve al volgere della lura anche qui immagini di paesaggio avevamo detto il tema dell'esilio venne espresso anche da un poeta semimaro che è costretto a causa della sua cicità viene abbandonato nei pressi di una barriera e scrive i sentimenti legati a questi attraverso questa poesia l'incontro delle persone che si incrociano nei pressi di questa barriera chi si conosce chi non si conosce chi si incontra e chi si separa è un sentimento che appunto si fa strada nella nuova dimensione estetica del Giappone e che ritorna per esempio anche nelle poesie di Saigio Saigio è un poeta che come Noin che avevamo citato prima si dedica la sua vita si fa monaco da guerriero si fa monaco e quindi dedica la sua vita al sentimento al viaggio alla ricerca di emozioni immersi nella natura ai fiori di ciliegio ancora ripete e reitera la sua ricerca di emozioni anche attraverso nuovi scenari naturali e attraverso ecco questo uno dei luoghi preferiti da Saigio sono sicuramente i monti di Yoshino famosi in passato per la neve ma che poi diventeranno famosi per il fulgore dei fiori di ciliegio che nella stagione prevista esplodono nella loro massima fioritura qui vediamo ancora conservato in Giappone il romitaggio l'eremo dove si trascorreva la sua esistenza Saigio a Saigio e qui era figurato anche in un dipinto sempre all'ombra di fiori e una sua poesia viene richiamata la figura del monaco che dedica la vita seguendo queste immagini fuggevoli come i fiori di ciliegio qui un altro no anche un no un dramma che è dedicato proprio alla figura di Saigio qui è un fiore di ciliegio che porta il nome tuttora di Saigio questa varietà dedicata al poeta i guerrieri anche si dedicano però alla poesia questa è una poesia che viene ancora all'immagine dell'ombra di trovare riparo all'ombra dei fiori i fiori sono naturalmente i fiori di ciliegio e l'immagine di un guerriero che aspirerà fino all'ultimo affinché questa sua poesia venga inserita nelle antologie imperiali purtroppo non sarà inserita in seguito sarà inserita come anonima e quindi lui proverà grande delusione di questa sua disillusione altri diari di viaggio compaiono anche scritti da personaggi umani da personaggi maschili scusatemi e molto spesso l'asse del Giappone si è spostato dalla capitale Kyoto verso Kamakura quindi i viaggi spesso sono diretti verso il nord-est del Giappone in questo diario di viaggio si sono descritti luoghi legati al nord-est del Giappone lungo il percorso nascono ci sono naturalmente vari santuari vari laghi che vengono attrevesati questo invece è un altro diario femminile in cui sempre viene descritto il viaggio che conduce il cammino che conduce dal capitale Kyoto verso Kamakura dove c'era di fatto la gestione del potere centrale qui vediamo delle visioni di Kamakura le ortenzie sono uno dei piori più belli che decorano il paesaggio di Kamakura e la natura torna a comparire anche sempre in poesia nelle poesie a catena nelle poesie a catena dove qualsiasi trasformazione viene a le poesie a catena vengono composte a più mani quindi vari poeti componendo un verso ciascuno fanno trascorrere il tempo i versi srotolano una sorta di rotolo dipinto di fronte agli occhi di colui che li ascolta e li legge e si vede trasformare lentamente le stagioni dalla primavera all'estate l'autunno l'inverno si passa da figure naturali a figure umane eccetera qui vediamo un esempio la neve le pendici i monti poi l'immagine successiva il fiume i monti le sere d'autunno da immagini visive si passa a udori e altre sensazioni con effetti di sinestesia poi i susini il profumo dei susini i susini vengono cantati molto attraverso l'immagine del loro profumo poi la brezza tra i fiume sul fiume i salici i salici già indicano che siamo nella primavera avanzata lo sciacquio delle barche l'alba e la luna la luna prepara già verso il passaggio verso l'estate quindi l'autunno l'autunno quindi la bruma d'autunno e poi la rugiada e l'autunno che va avanzando gli insetti il canto degli insetti che lentamente si fa più debole le erbe che appassiscono tutto questo indica la trasformazione nel tempo questo fluire continuo il divenire delle emozioni che viene espresso di poeta in poeta e che si manifesta così anche sul palcoscenico del no attraverso le visioni fugaci degli attori che si manifesta anche nell'immagine dei ricordi che questi fantasmi vivono nella loro esistenza questa è l'immagine di un guerriero che suicida interrompe la sua vita volontariamente e quindi interrompe il fluire queste sono le sue emozioni espresse in forma estesa del no che assurdità se son corpo di rugiada che svanisce ancora posata sul volto alle erbe fluttuanti attratto dalle onde che follia ad alleggiare sulle navi chissà fino a quando e sulla nave aspetta la battaglia decisiva ma si sente svuotato e quindi si getterà sulle acque e morirà quindi non decide di finire immerso così mi risolse e quindi scrive i sentimenti che l'hanno portato a questa sua desiderio di questa vertigine di perdersi nell'acqua e morire appunto perché questo mondo comunque viaggio senza lasciare i pianti verso di me a guardo esterno se mi penseranno pazzo comunque gli uomini mi guardino io mi volsi a occidente pregai il Buddha Amida e mi sprofondai nell'acqua il viaggio era l'unico il viaggio di follia e anche il viaggio consentito era l'unico occasione in cui era consentito un un allontanamento dal proprio ambiente anche alle figure femminili abbiamo visto le dame di corte spesso appunto hanno avuto occasioni di viaggio escursioni eccetera ma nell'epoca successive evidente la figura femminile ha meno opportunità il paese il territorio stesso non ha più la tranquillità che aveva nell'epoca precedente per cui la figura di donne che attraversano varie regioni o varie parti del paese non appaiono se non appunto per esempio nel caso del no con figure di donne in preda alla follia donne che cercano l'amato donne che cercano i figli questo appaiono per esempio nei drammi no e la natura in quel caso costituisce da ristoro da trastullo per dimenticare il pensiero dominante che domina il cuore della persona coinvolta ma nello stesso tempo questo pensiero dominante ritorna incessante quindi il dolore della perdita la ricerca dell'amato è il sentimento che riemerge all'interno dei viaggi parlavo prima dei poeti che hanno creato hanno cercato il romitaggio l'isolamento e soprattutto più che l'isolamento l'immersione nella natura un contatto sempre diretto e spontaneo con gli elementi naturali e abbiamo parlato anche dell'estetica della desolazione la estetica dell'isolazione che appare nelle poesie questo tipo di estetica sarà la base poi di alcune delle arti legate poi allo zen eccetera della grande tradizione giapponese tra cui appunto la cerimonia del tè la pittura all'inchiostro eccetera qui la cerimonia del tè cerca una sorta di raccoglimento di semplicità e di ritorno alla semplicità pur utilizzando degli oggetti preziosissimi però nello stesso tempo molto in apparenza rustici molto ancora grezzi e cerca la semplicità del raccoglimento all'interno di una stanza ma nello stesso tempo all'interno di questa stanza si cerca di ricreare la dimensione naturale quindi con delle aperture verso l'esterno e il percorso che conduce alla stanza anche è il luogo dove avviene l'incontro dove viene servito il tè dove due persone hanno un incontro che forse non si ripeterà mai più perché avviene solo in quel momento solo in quel luogo solo in quel luogo in quella stagione e in quelle persone trovano finalmente un momento di incontro e di emozione che avviene anche molto spesso attraverso il silenzio e il servizio appunto di una di una tazza di tè c'è un percorso che conduce a questo momento di raccoglimento che ha generalmente l'ingresso attraverso un ingresso limitato una porta stretta che conduce verso l'interno c'è un giardino che conduce che prepara mentalmente a questo momento di incontro e di raccoglimento e poi invece all'interno appunto le persone hanno il loro primo incontro appunto l'incontro umano in cui tutto quello che appartiene al mondo esterno di rango le spade per i guerrieri eccetera viene abbandonato e all'interno avviene l'incontro tra due persone che cercano appunto un momento di emozione di raffinatezza per assoporare il tè e per incontrarsi appunto in maniera irripetibile nel tempo gli oggetti come vedete hanno appunto questa semplicità la ruvidezza della materia e nello stesso tempo la sensazione anche tattile creata dall'oggetto favorisce questo momento di grande emozione che si crea all'interno su questa scia di poeti solitari che viaggiano si inserisce anche Basho uno dei poeti più famosi della tradizione giapponese Basho è chiamato così perché costruisce una sorta di eremo un eremo che è caratterizzato dal Basho cioè dalla pianta di banano il banano che è raffigurato qui appunto è quello che caratterizzava la capanna dove decide di vivere il poeta abbandona il successo di poeta maestro riconosciuto e decide di vivere nei pressi di Edo un po' in una zona appartata e poi però anche di avviarsi in viaggio Basho è continuamente attirato dal viaggia con la mente ma viaggia anche con il corpo fisicamente perché l'esperienza del viaggio è anche un'esperienza di incontro con persone con cui fare poesia di scambio e anche di raccolta di emozioni e di conoscenza di luoghi lui ricorda appunto i vari poeti del passato che hanno fatto diari di viaggio li abbiamo visti Kino Tsurayuki Kamono Chomei la monaca Buzzo e così via e hanno cercato appunto di esprimere le emozioni attraverso il viaggio lui cerca di rivivere queste emozioni però esprime anche la difficoltà di esprimere non soltanto i paesaggi e i luoghi che si imprimono nella mente esprimere la tristezza dei disagi dei rifugi tra i monti e delle locande in pianura ma soprattutto esprimere questa continua trasformazione nel tempo l'affidandosi ai vento e alle nuvole i luoghi indimenticabili trascritti non tenendo presente necessariamente la cronologia il prima e il dopo quindi lui descrive anche la vita come una sorta di viaggio le lune e i giorni stesse sono viandanti di cento generazioni e anche gli anni che vengono e passano sono viaggiatori ci sono coloro che fanno galleggiare la loro esistenza su una barca coloro che si avviano alla vecchiaia aggrappati al muso di un cavallo e giorno dopo giorno viaggiano e del viaggio fanno la propria dimora anche tra gli antichi molti sono morti in viaggio quindi lui si lascia abbandonare a questa via della ranza e da questo nascono le sue si prepara per il viaggio e nascono le sue emozioni la prima pensiero va per la luna di Matsushima qui è la sua qui vediamo alcuni suoi versi l'immagine è appunto della desolazione sempre la presenza della parola che richiama la stagione però sempre un nuovo taglio prospettico una nuova immagine il corvo in realtà sono tanti corvi se vediamo i dipinti il giapponese non distingue singolare e plurale molti traducono la poesia come un singolo corvo e potrebbe essere così perché dà l'immagine della solitudine della desolazione del singolo corvo su un ramo appassito al tramonto d'autunno ma nel dipinto di Vachau invece vedete che ci sono molti corvi in volo e altri posati la luna all'alba e quindi il poeta che gira attorno allo stagno alla ricerca di questo i banani stracciati dal vento e quindi la pioggia ascoltata attraverso i suoni non soltanto attraverso le immagini la neve dipinta del suo ritiro la morte all'interbiere e il vento che penetra il mio corpo questo è il senso del proprio destino questi sono sempre dipinti questi sono dipinti realizzati da lui stesso per chi si commuove il pianto della scimmia e invece la giusta posizione con il lamento di un orfano abbandonato al vento d'autunno altre immagini legate al paesaggio e alle sue esperienze i fiori d'altea la prospettiva dal punto di vista dei fiori d'altea che sono brucati dal cavallo e il cavallo su cui lui stesso sta viaggiando e i fiori d'altea che sono sul ciglio del sentiero che sono destinati ad essere brucati assorpito sul cavallo la certi di sogno il fumo del tè quindi l'immagine l'odore del tè eccetera anche queste immagini anche sinestesie il suono i lamenti dei germani che appaiono bianchi sull'imbrunire del mare il sentiero tra i monti le violette l'anno che tramonta quindi la fine dell'anno e lui ancora una volta che si prepara al viaggio il copricapo i sandali di paglia il bastone sono i segni dell'eremita e del viaggiatore che si dedica appunto al viaggio perenni il viaggiatore sarà chiamato le prime piogge d'autunno ecco qui l'immagine di lui con il copricapo e il bastone e il mantello il legame con il viaggio natale e il cordone ombelicale è un'immagine che fino ad ora nessuno aveva mai pensato legare il paese natale il tramonto d'autunno il tramonto dell'anno quindi la fine dell'anno e in Giappone c'è consuetudine di conservare il cordone ombelicale con cui uno è nato la madre conserva il cordone ombelicale del figlio e quindi lui ricordando i genitori persi appunto guarda l'immagine del cordone la nostalgia costante di mamma e di babbo e mamma e il lamento di fagiano anche qui la sensazione dell'autunno e il lamento del fagiano i fiori di glicine tarda primavera le carrie che si disperdono al suono della cascata il suono addirittura provocando delle vibrazioni indeterminano la fragilità quindi dei fiori i nidi galleggianti dei colimbi le labbra geli dal vento d'autunno anche qui l'immagine di un viaggiatore la scimmia che desidera un mantello di pioggia sotto gli scrosci della pioggia e così via queste sono le isole di Matsushima purtroppo devastate dal maremoto che ha colpito lo scorso anno il Giappone sono uno dei paesaggi più belli più rinomati del Giappone e tuttora celebrati appunto anche da Bashaw eccole qui sono tutte isole disperse nella costa vediamo anche un'immagine della distesa d'erbe d'estate è un campo di battaglia in cui sono rimasti sono dispersi i sogni di molti guerrieri rimasti vittime della loro guerra l'immagine delle spelerese figura d'autunno la luna lui cioè lui quasi monaco e una cortigiana in realtà le cortigiane secondo la tradizione forse erano due nella stessa locanda l'immagine delle piogge d'estate di fine maggio e il padiglione d'oro ecco qui sono le piogge raffigurate il mare tempestoso e l'isola di Sado e la via Lattea qui sta l'isola di Sado che è un altro luogo di esilio dove sarà esiliato Zeami per esempio il grande attore del No sarà esiliato proprio nell'isola di Sado qui sono altre immagini che raffigurano i viaggi di Basciò alcuni dipinte da lui altri da Lievi i fiori di Carrea i forni di Ugi il tramonti di Autunno le nuvole e gli uccelli e questo è il suo ultimo viaggio diciamo l'ultima poesia uno degli ultimi versi legata alla malattia la malattia in viaggio e i sogni che impazzano nella sua mente che è appunto presa da quello vediamo raffigurato con il banano e qui celebrato dai poeti e anche da tutti gli animali che sono rimasti emozionati dalla sua poesia e qui passiamo all'epoca siamo nell'epoca Edo comunque il Basciò segna il passaggio di fatto da una certa tipo di concezione estetica che era stata della tradizione cioè abbiamo visto quella dell'erranza del viaggio del poeta che persegue il suo cammino attraverso un ritemperamento anche del corpo oltre che delle emozioni e a una fase in cui il viaggio la natura viene apprezzata attraverso delle guide i viaggi diventano il Giappone nel frattempo ha conquistato una pace duratura le persone possono viaggiare con maggiore tranquillità anche se hanno bisogno di lasci passare da una regione all'altra e si vengono pubblicate delle guide delle varie città famose questa è la capitale per esempio una parte della capitale l'antica capitale Kyoto le bellezze di Kyoto vengono pubblicate appunto la stampa si diffonde vengono pubblicate in questo modo qui vediamo anche altre bellezze sempre di Kyoto qui vediamo bellezze del percorso i ponti per esempio del percorso che conduce dalla capitale fino a Edo la nuova sede dello shogunato dove di fatto risiedono i shoghi Tokugawa che gestiscono politicamente il Giappone ma che hanno bisogno comunque dell'avallo dell'imperatore e lungo questa arteria che lega la capitale alla nuova centro politico del Giappone come in passato era venuto tra la capitale e Kamakura lungo questa arteria molti viaggiatori molte merci molte persone trascorrono e i ponti sono appunto una delle rappresentazioni più frequenti Osaka la città commerciale non a caso vengono rappresentati i canali le barche le merci le persone che si scambiano e che si incrociano e queste immagini delle guide alle varie località entrano poi alcune serie famosissime di Rokusai e di Hiroshige sono le stampe più celebrate anche in occidente qui vediamo ancora appunto vedute per esempio del Monte Fuji e persone viaggiatori che trasportano merci lungo il paese che è pacificato siamo però già nel 1800 in questo caso abbiamo già fatto un lungo percorso il Giappone ha una pace dal 1600 al 1868 che consente questa prosperità non solo dei movimenti delle persone ma anche la circolazione delle merci e delle idee il Monte Fuji visto anche da prospettive tagli prospettici inconsueti il Monte Fuji appunto visto da varie altre prospettive qui lo vediamo insolitamente di un colore e molto spesso nascono anche opere narrative che descrivono in forma anche commerciale le varie locande i vari avventure che vengono compiute da due personaggi immaginari un po' comici le avventure e disavventure compiute da questi due personaggi lungo questa arteria che lega le due città principali diciamo intorno a cui ruota la vita del paese qui vediamo sempre i due personaggi lungo questo percorso uno dei luoghi di pellegrinaggio un altro tema del viaggio è il pellegrinaggio il pellegrinaggio comporta appunto la visita al santuario di Isse che è un santuario molto importante al santuario di Isse si poteva andare in qualsiasi momento poteva andare uomini o donne chiunque aveva l'impulso a recarsi in santuario di Isse poteva farlo e aveva il permesso di e quindi diventerà appunto luogo molto frequentato qui è il santuario visto dal la guida il santuario visto dal dall'alto a vuolo d'uccello e qui vediamo tante figure di pellegrini che si recano verso Isse i ponti poi vediamo appunto altre visioni di scenari naturali vediamo anche che secondo la tradizione poi pittorica che veniva dalla Cina accanto al paesaggio naturale oltre al cielo e alla terra ci sono anche le figure umane piccolissime che danno anche la dimensione della grandezza di questi scenari e che danno anche la dimensione di questa sintonia tra uomo terra e cielo sono paesaggi percorsi da vari elementi meteorologici che investono appunto non solo la natura non solo il cielo non solo la terra ma anche le figure umane le diverse stagioni che trascorrono la pioggia e gli effetti suscitati dalla tempesta le figure umane che si muovono alla pioggia i gorghi del mare eccetera sono tutte immagini che torneranno appunto in epoca moderna che torneranno nella fotografia dell'epoca moderna in epoca Meiji cioè quando finisce lo sugonato del 1868 il Giappone è costretto ad aprirsi molto in maniera brutale agli occidentali e è costretto a un processo rapido di modernizzazione incontra l'altro questa volta con viaggi anche verso l'estero questa volta gli stranieri vengono in Giappone non si chiude più entro il cerchio di quelle isole che abbiamo visto all'inizio la vita le emozioni le stagioni non sono più soltanto il mondo non è più soltanto quello noto dei territori ha vissuto dominato dagli 80.000 divinità che popolano il territorio giapponese ma è un mondo molto più ampio nello stesso tempo i poeti e gli artisti vanno all'estero Nasume Sose che si recca in Inghilterra torna e scrive un kusamakura un guanciale d'erba un romanzo che è una sorta di percorso estetico in cui il titolo guanciale d'erba richiama una sorta di amuleto il guanciale d'erba era il guanciale che veniva intrecciato proprio da quei monaci o da chi faceva i viaggi eccetera per proteggersi era una sorta di amuleto che serviva da guanciale per dormire sull'erba alla ghiaccio eccetera nel corso dei viaggi e per proteggere contro i pericoli del viaggio quindi lui non a caso sceglie il termine kusamakura guanciale d'erba e questo è un viaggio in realtà di un artista un pittore che cerca di nuovo l'ispirazione cerca l'ispirazione viaggia e cercando questa ispirazione le parole che aprono il romanzo sono queste salendo il sentiero di montagna pensai così esprime le varie la sapienza sentimento l'orgoglio le varie emozioni la fatica di vivere che si intensifica e la ricerca del desiderio di trovare un luogo agevole il mondo moderno costringe l'artista a cercare nuovi luoghi dove trovare ristoro non solo alla sua espermazione ma cercare anche ristoro alla sua vita e la natura sembra darle in questo caso si è spezzato quel legame che c'era con la natura di sintonia e c'è la visione invece di un poeta di un artista che è ormai romantica che è ormai ha subito il trauma diciamo della modernizzazione quando si prende coscienza che in qualunque luogo ci si trasferisca vivere duro nasce la poesia si realizzano i dipinti a creare il mondo degli uomini non sono né dei né demoni evidentemente non sono che gli esseri umani che brulicano intorno e accanto a noi per quanto il mondo degli uomini creato soltanto da uomini sia duro da vivere non ci sarà paese in cui fuggire per lui che è stato all'estero questa impressione è molto più forte se ci dovesse essere significherebbe solo andare in un paese non umano e un mondo non umano sarà ancora più duro da vivere quindi arriva a questa concezione e nascono anche in epoca moderna opere narrative che descrivono i viaggi la poesia di viaggio i diari di viaggio vengono espressi appunto anche qui troviamo per esempio l'isola di Sado quindi queste isole remote che una volta erano luogo di esilio vengono visitate dagli scrittori e gli scrittori registrano i loro viaggi quindi moltissime opere anche ritornano le immagini il mantello di paglia il copricapo intrecciato abbiamo visto il guanciale d'epoca quindi si ricorre alle immagini che erano state dei poeti ma vengono descritti i paesaggi i luoghi e le persone attraverso l'esperienza personale attraverso i propri occhi e attraverso la propria nuova sensibilità navi al sud cavalli al nord questa è un'immagine del viaggio che viene dalla tradizione cinese dove normalmente al sud si viaggiava in nave mentre al nord si viaggiava a cavallo e nascono anche i viaggi attraverso i luoghi termali le onsen che erano delle sorte di guida turistiche di fatto che vengono scritte da celebri poeti e scrittori nasce la letteratura di montagna quindi si cercano anche di scalare secondo la nuova visione occidentale le montagne che vengono appunto scalate nascono le immagini del riposo e ancora l'isola di Sado dove cercare ristoro ma spesso questi viaggi sono accompagnati da immagini di poesie da versi poetici quindi la tradizione permane ancora la descrizione del paesaggio si accompagna a dei versi brevi che suggellano i sentimenti perché il paesaggio in quel momento può aiutare come era stato nella tradizione a esprimere le emozioni che sono del poeta e dello scrittore e nasceranno anche critiche auspercheranno una letteratura greste quindi nasce l'idea del ritiro tra i campi perché l'intellettuale si sente oppresso dalla metropoli decide di allontanarsi dalla metropoli dall'affollamento dal trambusto urbano nascono gli esiti i traumi dei disagi della modernizzazione in poesia nasce l'idea della poesia come descrizione il nuovo poesia breve Masao Kashiki nasce come poesia descrittiva quindi rimangono le immagini naturali i fiori di glicini la pioggia però sono prevalentemente descrittive il poeta evita di cercare giochi di parole o altri effetti particolari che erano stati perseguiti dalla tradizione e esprime la sua emozione attraverso dei frammenti dei brandelli di emozioni ancora qui ne vediamo moltissime ce ne sono tutte legate sempre immagini naturali lande desolate peonie eccetera le vedremo però tornare anche nella fotografia alcune immagini di fotografie nascono anche i diari viene tradotto il diario di un cacciatore di Uturgeniev e da questa nascerà l'idea anche della descrizione naturale qui vediamo poesie della tradizione che descrivono la piana di Musashi la piana enorme la grande distesa d'erbe dove poi sorgerà nel frattempo in seguito sarebbe sorta la città di Edo che viene descritta appunto come senso dell'infinito senso di smarrimento e invece i poeti e gli scrittori dell'epoca meggi dell'epoca moderna la descrivono in questo modo ci sono le querce le foglie ingialliscono poiché ingialliscono le foglie non cadono fugaci piovaschi sussurrano l'aquilone urla si cerca di descrivere con parole non con la sintesi i tratti brevissimi e semplici che erano della tradizione si cerca di descrivere con le parole quello che l'occhio coglie in forma sempre più realistica più dettagliata più minuta quasi come se si volesse fare non una psicografia come era nella tradizione ma una riproduzione appunto molto attraverso un dipinto dettagliatissimo della tradizione occidentale si richiamano le varie sensazioni si trascrivono con grande dettaglio con grande minuzia tutti gli effetti un elemento particolare un effetto particolare dell'immersione nella natura avviene nel caso però di uno scrittore come Izumichioka che invece descrive l'effetto magico della natura l'aveva prima citato nella presentazione è stato citato nella presentazione Izumichioka vede la natura come l'immersione in qualcosa che ancora non è stato toccato dall'uomo e in cui l'uomo rischia di perdersi di essere travolto la natura fatata la natura magica la natura dove appaiono spiriti fantasmi e l'uomo rischia di essere travolto da questo fascino però nello stesso tempo anche l'incanto di questa natura che è appunto magica adesso passerei breve rapidamente perché il tempo è ormai strettissimo passerei alle immagini di alcune di alcune di alcune immagini naturali che sottroviamo nella mostra e queste immagini dei fiori sono immagini che riprendono fiori che erano stati cantati anche dalla tradizione fiori ciliegio però qui è visto un ciliegio molto diverso da quello che era cantato dalla tradizione però ispirandosi ai modelli anche dei libri di flora occidentali quindi esperienze occidentali della percezione dei fiori il giglio non è spesso cantato nella tradizione giapponese il fiore di lotto non spessissimo nell'arte è presente ma nella poesia era un'immagine legata molto al buddismo il crisantemo senz'altro abbiamo visto le iris erano presenti anche nella tradizione nelle poesie vengono cantate ma legate appunto alla stagione vediamo che anche nelle poesie sicuramente il paesaggio giapponese viene colto in alcuni momenti che già la poesia aveva celebrato cioè i fiori di ciliegio in questo caso a Ueno quindi si mostrano le bellezze della nuova capitale del Giappone Edo nel frattempo è diventata Tokyo e la capitale l'imperatore si è trasferito a Tokyo e quindi è diventato il nuovo centro del Giappone gli stranieri vedono questa città e le guide della città vengono presentate appunto sin da presto con con le fotografie qui vediamo invece i ciliegi appunto di zone montagne più sperdute altre bellezze di Edo la Tokyo nuova cameido e questo è naturalmente un pergolato di glicini quindi sempre legato alla stagione vediamo i giardini con le iris e le giaggioli fioriti anche qui i legami vengono rappresentati naturalmente le bellezze dei templi come era stato già nell'epoca precedente però prima veniva nelle stampe adesso avviene invece vengono rappresentate anche le scene della città con la prospettiva quello che era stato perseguito attraverso lo kyo-e nelle stampe prospettiche imitando in parte l'occidente in qualche modo viene riprodotto in queste fotografie e si fa vedere l'animazione di Osaka una città commerciale l'abbiamo vista prima con le merci vediamo le barche e i fiumi qui siamo a Rashiama sempre un luogo molto bello del nord diciamo della capitale dell'antica capitale di Kyoto le cascate quindi gli elementi naturali tornano sostanzialmente gli stessi con la presenza anche appunto di vari ere miromitaggi gli itinerari che erano percorsi anche qui cascate e persone in cammino il monte Fuji naturalmente molto sfocato ma è presente nello scenario con il lago di Hacone e qui anche i ponti il monte Fuji sempre figure di ponti che segnavano il passaggio questo verso Nicco altra zona ancora il monte Fuji con il ponte troviamo anche i portali che indicano l'ingresso verso i santuari cioè le aree sacre dei santuari scintoisti qui abbiamo visto l'immagine all'inizio del santuario di Kasuga dove appunto c'è il bosco che circonda il santuario qui vediamo altre parti della città di Nara vedute del porto di Nagasaki che riprendono sicuramente vedute a volo d'uccello che erano presenti nella tradizione sempre Nagasaki isole queste riclamano un po' le immagini di Matsushima che avevamo visto in Bashoma in realtà sono isole altrettanto belle nei pressi di Nagasaki le imbarcazioni le avevamo viste nelle stampe le foreste la foresta questa è quella che conduce verso Nicco è la foresta vergine è quella che Izumichioka ha considerato il luogo dove vivono ancora gli spiriti le divinità della tradizione l'uomo può essere assalito da questi spiriti e si immerge in queste foreste però ha anche degli incontri magici meravigliosi però il suo rientro nel mondo umano sarà sempre di grande trauma perché lui è contaminato dalla sacralità dei luoghi che ha percorso dall'incontri che ha avuto e quindi gli uomini non lo comprenderanno più l'immersione nella natura è l'immersione appunto in questa dimensione che viene vissuta in maniera romantica diciamo in epoca moderna e questa natura viene però man mano assalita violentata nella visione di Izumichioka dalle ferrovie per esempio le linee ferroviarie le strade che si inoltrano nel territorio e che quindi vengono a contaminare in qualche modo questa dimensione il mondo magico di Izumichioka in realtà viene distrutto sostanzialmente allora lui ricorrerà all'apparizione di fantasmi anche nelle città all'apparizione dell'insolito del fantastico del meraviglioso anche nel mondo cittadino e questa sua doppia dimensione la natura e la città saranno al centro poi di tutta la narrativa e torneranno nei paesaggi sia descritti attraverso le fotografie che attraverso la narrativa io con questo concluderei la mia corsa lungo il paesaggio e la natura in Giappone vorrei chiedere scusa del l'abbondanza di eccesso di ringrazio il suo Ruperti di questo fiume di poesia che ci ha io penso che abbiamo il tempo per qualche domanda se è così prego io volevo innanzitutto continuare per le scelte fotografie grazie che lei ci ha ci ha presentato e e poi appunto riflettere sul fatto che in sostanza i i giapponesi riluttano dall'esprimere in maniera diretta i propri sentimenti e si servono di 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 metafore che sono sostanzialmente visioni scenari naturali e questo mi fa venire in mente un libro di un nostro scrittore scrittore morto circa trent'anni fa Goffredo Parise che fece un viaggio in Giappone invitato mi pare dal ministero della cultura aveva a sua disposizione una traduttrice accompagnatrice geisha in senso nobile diciamo così e lui dice alla fine che non era mai riuscito a frantumare a creare un varco nel muro un muro di cristallo che si sovra che si interponeva fra lui e la sua accompagnatrice perché tutto il rituale d'inchini sorrisi difendevano sia lui che l'interlocutore dall'irruenza delle emozioni parisi 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 afferma che secondo lui cioè secondo i giapponesi esporre ed esprimere le proprie emozioni all'interlocutore è maleducato e indiscreto e crea imbarazzo nell'interlocutore e quindi rimane questa come dire questo vallo questa muraglia grazie è una domanda l'eleganza è frigida l'eleganza è frigida il sicuramente le osservazioni di Parise sono fondate nel senso che appunto nei rapporti sociali poi in particolare nei rapporti umani diretti in Giappone nascono tutta una serie di difficoltà di di superare determinate diciamo di difesa che si instaurano tra qualsiasi persona che si incontra per la prima volta con cui si ha un determinato rapporto di in questo caso appunto la traduttrice e la persona che diciamo deve essere accompagnata quindi c'è un rapporto professionale da una parte c'è un rapporto sociale di posizione diversa non ci si conosce se non appunto per questo incarico eccetera quindi in generale è un po' un limite diciamo un sistema dell'organizzazione sociale giapponese che per facilitare i rapporti richiede una certa distanza poi quando si entra ovviamente nel cerchio delle persone che fanno parte della famiglia del proprio ambiente con cui si è cresciute e quindi gli affetti familiari o comunque le persone con cui si è vicine questo tipo di barriera come lui l'ha definita come lei ha definito non si presenta più è diverso e quindi forse il termine barriera è un termine molto forte in realtà è soltanto un velo che consente per questioni di buona educazione di etichetta che consente di non invadere troppo l'interlocutore e l'interlocutore di non invadere troppo ed essere invaso troppo da me quindi è una sorta di distanza di difesa di distanza protettiva che garantisce entrambi e che non urta la sensibilità né dell'uno né dell'altro e che consente a entrambi di avere un rapporto positivo sia professionale che umano sociale diciamo quindi direi che non è una barriera forte però lentamente nel tempo poi questo che ha vissuto a lungo appunto in Giappone sa che lentamente nel tempo questo viene a modificarsi che le persone che man mano si conoscono conquistano una certa familiarità eccetera e quindi i rapporti personali diventano più sciolti anche due giapponesi appunto assolutamente sconosciuti hanno sempre una fase iniziale di potersi collocare e quindi scelgono sia un linguaggio che un atteggiamento di cortesia che cerca di non invadere con richieste troppo invadenti di chiarimenti e neanche con appunto espressioni di emozioni troppo forti nella poesia e come ha detto giustamente il percorso di fatto abbiamo visto all'inizio l'espressione diretta dei propri sentimenti è presente nelle poesie antiche continuerà ad essere presente talvolta in poesie femminili eccetera però generalmente sceglie come giustamente osservava la metafora sceglie il ricorso a immagini naturali che immagini naturali che veicolano che veicolano e rendono in maniera visiva uditiva e sensoriale quelli che sono i sentimenti delle persone perché i sentimenti delle persone non sempre si possono esprimere direttamente attraverso le parole molto spesso meglio delle parole esprimono le immagini che sono date da suoni sensazioni eccetera e poi le emozioni nella concezione forse degli antichi poeti le emozioni lo dice poi Izo Michioca in epoca moderna le emozioni nascono vengono influenzate anche dall'atmosfera d'intorno dalla stagione che si sta vivendo dal tempo che c'è fuori se fuori piove o è bel tempo lui dice anche in epoca moderna questo per esempio Izo Michioca sottolinea come il dialogo tra due persone cambia è diverso due amanti che si incontrano in una stanza anche al chiuso se fuori piove hanno un dialogo diverso se fuori invece c'è la neve o se c'è il bel tempo il loro dialogo sarà diverso l'atmosfera e il mood proprio lo spirito del tempo che cambia e quindi anche le loro parole saranno diverse ancora il loro stato d'animo e le loro emozioni saranno diverse e cambiano a seconda degli stati d'animo i poeti i poeti scelgono questo appunto l'appoggiarsi alle immagini per esprimere le loro emozioni per esprimere le emozioni e lo fanno in maniera appunto a volte ricorrendo però anche a metafore codificate perché loro sanno che una determinata immagine a chi condivide quella determinata estetica una determinata immagine evoca anche tutto un altro mondo quindi le poesie pur essendo brevissime si amplificano di migliaia di emozioni e di sensazioni e di risonanze e di ecchi che vengono da altre poesie che hanno cantato quel luogo che hanno cantato quell'immagine che hanno cantato quella stagione abbiamo ancora qualche domanda ne avrei una io se posso mi riallaccerei proprio a questa considerazione perché anche guardando il commento suo quella foto con quel grande viale di alberi antichi forse sequoia il rapporto che c'è tra la natura incontaminata e il giardino giapponese il giardino giapponese è il luogo dell'armonia dove però la presenza dell'uomo è molto forte c'è poco di naturale c'è una rappresentazione idealizzata della natura allora mi chiedevo proprio il rapporto della cultura giapponese nei confronti della natura incontaminata la natura salvaggia quella che per noi è il giardino romantico inglese ottocentesco che da loro mi pare non sia proprio presente nelle diapositive ho corso e quindi mi sono soffermato sulla figura per esempio di un attore di un personaggio che appare in un dramma molto famoso che è Minamoto Notoro è un nobile di corte che riappare come fantasma quindi all'inizio appare come vecchio a un monaco viaggiatore in quelle che erano le vestigia del suo giardino un giardino che è ormai stato devastato dal tempo il giardino non è più nemmeno lontanamente la bellezza c'è il fascino anche proprio della rovina diciamo anche se non secondo la nostra immagine le rovine romane eccetera è il paesaggio il giardino che è stato devastato il vecchio appare il personaggio appare in forma di vecchio e poi invece si manifesta nelle vere sembianze del nobile di corte che un tempo aveva lì la sua bellissima villa e aveva costruito un giardino il giardino riproduceva una costa abbiamo visto le isole di Matsushima riproduceva il paesaggio della costa del Giappone che è vicina a quelle isole ed era una costa una costa rinomatissima una costa bellissima lui aveva fatto riprodurre appunto visto che era un ministro importantissimo aveva fatto riprodurre nel suo giardino un paesaggio naturale però l'aveva ricostruito in piccolo nel suo giardino e aveva fatto portare addirittura l'acqua salata per fare anche ricreare l'immagine delle dell'acqua che la cui si ricava il sale eccetera quindi proprio lo scenario così com'era nella sua nella spiaggia che era stata cantata dalla poesia e lui attraverso questa pur senza recarsi in quel luogo riusciva riusciva a divertirsi con la sua compagnia con gli altri convitati in questo giardino quindi il giardino giapponese è una ricostruzione è una ricostruzione di un paesaggio ideale in cui di solito c'è una sorta di microcosmo ci deve essere l'isola ci deve essere il luogo dove ammirare la luna ci deve essere il lago quindi c'è tutto quello che dovrebbe esserci all'interno di un paesaggio ideale che può esistere anche nella realtà che viene ricostruito però in piccolo e in dimensione ridotta e che può essere contemplato all'interno di questo paesaggio quindi c'è l'artificio all'interno di questo paesaggio la persona che vive può appunto immaginare comporre poesia fare conviti nelle acque giocare sulle barche con gli altri convitati eccetera eccetera questa era l'immagine del giardino di corte nella tradizione negli anni mille mille cento e quindi però l'elemento è una ricostruzione però nello stesso tempo tra ispirazione dalla natura dalla natura in in forma ridotta e è una ricostruzione naturale però nello stesso tempo cioè molto perfetta ma nello stesso tempo si fa di tutto anche perché sia molto vicina alla natura per cui anche Senorichiu che era il grande maestro della cerimonia del tè lui quando appunto al discepolo pulisce tutto il giardino è tutto perfetto perché arrivano le persone gli ospiti importanti per venire a prendere partecipare a questo servizio del tè alle cerimonie del tè che lui sta preparando il giardino è troppo perfetto non ci sono più foglie sparse in giardino eccetera e quindi lui fa scuotere gli alberi in modo che il giardino riconquisti quella naturalezza questo è la ricostruzione artificiale che è un po' anche la poesia anche la poesia non riproduce la natura così com'è realmente ma cerca di riprodurla in maniera estetizzata e mediata all'interno dei versi all'interno di una forma che è codificata quindi direi che è un microcosmo che cerca di riprodurre la natura il più possibilmente perfetta cercando di mantenerne anche la naturalezza cercando di mantenerne anche la naturalezza e il mondo invece esterno questo è il mondo creato dagli uomini il mondo invece esterno cioè la natura incontaminata le foreste eccetera che spesso circondano i grandi santuari Aizumo e anche in altre in altre aree del Giappone sono dei luoghi in cui che sono dominati diciamo dalle divinità secondo la tradizione che erano dominate dalle divinità quindi l'uomo deve entrare all'interno di questa dimensione in maniera molto cauta deve divinare molto cauta nei momenti Zumi Kiyoka insiste molto sul fatto che in certe ore del giorno il viaggiatore poteva essere sorpreso dalla notte e essere in cammino durante la notte poteva essere pericoloso entrare in un tempio di notte può essere pericoloso perché si entra nella dimensione naturale che è appunto non dell'armonia ricostruita dall'uomo ma è una dimensione più selvaggia sono presenti però come hanno osservato giustamente questa duplice questa duplice dimensione la dimensione del selvaggio che è sacro e quindi è dominio della divinità e invece l'umano che è costruito dall'uomo a imitazione della natura però cercando il più possibile di mantenere appunto quell'armonia che è della natura grazie ecco ci diamo appuntamento allora per giovedì 8 marzo con la conferenza della professoressa Adriana Boscaro che ci parlerà della rappresentazione della donna giapponese nell'arte quindi a presto grazie buonasera grazie